Musica Buon dia a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia a mattonelle che io ho deciso di chiamare maglia romantica Per quanto riguarda il filato ho utilizzato il filato dell'Adrian Fouille linea Soffio Plus che è questo fantastico filato, questo gomitolo con il mohair che vi posso assicurare tiene caldo, è morbido e non punge Il colore che ho usato io è il numero 65 che è questo rosa antico molto particolare ma sul sito trovate anche altri colori, guardate qui ci sono queste tonalità di blu ma ce n'è anche uno un po' più scuro c'è questo nero ma c'è anche il grigio che è un grigio tendente al tortora ed è avanzato anche qualche gomitolo del bianco o del giallo Per quanto riguarda il quantitativo, allora io ho lavorato con l'uncinetto del 4,5 e come potete vedere è un po' corta la maglia ma è larga e ho utilizzato 6 gomitoli, del cui dal sesto me ne ho avanzato un pochetto quindi per una taglia LM io vi consiglio 7 gomitoli, 8 se volete farla più lunga per una taglia L vi consiglio 8 gomitoli, 9 se volete farla più lunga stessa cosa per la taglia XL, 9 gomitoli e 10 se la volete fare più lunga e come vi ho detto ho lavorato con l'uncinetto del 4,5 la lavorazione è molto semplice, io in realtà questa mattonella l'ho spiegata anche in una diretta su gruppo di Facebook La Libertà di Uncinetare Sferuzzare però ho capito che non volevo limitarmi a fare soltanto uno smanicato ma volevo aggiungerci appunto le maniche e quindi ho deciso di fare un tutorial per spiegarvi oltre alla lavorazione centrale anche come andare a fare le maniche con lo stesso punto la particolarità di questa maglia è nel fatto di come l'andate a vedere perché se ci si concentra sulla parte lavorata, quindi la parte più chiusa sembrano tanti cuoricini, se invece la si vede dalla parte forata sembrano tanti alberelli quindi è perfetta per l'inverno, veramente molto sfiziosa e mi piaceva appunto crearla in questo colore un po' romantico detto ciò, spero che... ah, nel video naturalmente vi spiego anche come andare a fare l'allung... se volete allungarla, quindi vi do tutti i consigli anche se lo vedevi fare in versione più lunga detto ciò, noi come sempre, se decidete... voi come sempre, se decidete di realizzare questa maglia mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa o sul gruppo Facebook La La Libertà di Uncinetare Sferuzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio e noi come sempre poi ci vediamo con un nuovo video tutorial per realizzare la nostra maglia con mattonelle io ho deciso di utilizzare il fantastico filato della Dianfil Linea Soffio Plus questo filato peloso che però vi posso assicurare non punge per nulla e non dà fastidio e il colore che ho scelto di utilizzare io è il colore 65 questo rosa antico, quindi un colore romantico per una mattonella che come avrete visto all'inizio è molto particolare perché a seconda di come si vede si possono vedere o dei cuori o degli alberelli quindi perfetta per l'inverno questi sono anche altri colori che trovate disponibili sul sito ce ne sono anche altri quindi andate a dare un'occhiata per quanto riguarda la lavorazione iniziamo subito io lavorerò con l'uncinetto numero 4,5 però mi raccomando, chi ha una mano stretta opti per lavorare con l'uncinetto del numero 5 perché essendo un po' peloso magari avete più difficoltà ad afferrare il filo quindi casomai fate una prova, fate le catenelle, vedete come riuscite a prendere meglio il filo e poi decidete quale uncinetto iniziare io lavorerò con quello del 4,5 allora andiamo a fare un anello magico e all'interno dell'anello magico andiamo a lavorare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientriamo andiamo a fare altre 2 maglie alte 1 e 2 catenella di separazione rientriamo andiamo a fare altre 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione di nuovo un altro gruppo di 3 maglie alte una 2 e 3 catenella di separazione e andiamo a fare l'ultimo gruppo di 3 maglie alte quindi una due e tre catenella di separazione tiriamo il filo per chiudere il nostro anello magico entriamo nella terza catenella iniziale che equivoleva la nostra prima maglia alta e andiamo a fare una maglia bassissima secondo giro vedrete che i giri da fare alla fine saranno tre però noi facciamo i primi tre che si definiamo i primi tre giri base e poi andremo a fare i tre giri veri e propri che sono quelli che andranno sempre ripetuti quindi questi li chiamiamo giri base abbiamo fatto il primo giro base adesso andiamo a fare il secondo giro base e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientriamo dentro la prima maglia alta andiamo a fare altre due maglie alte una due una maglia alta nella seconda maglia alta 3 mai alte sopra l'ultima maglia alta quindi una due e tre catenella di separazione e si ricomincia da capo andiamo sopra la prima delle nostre tre maglie alte andiamo a fare tre maglie alte una due tre andiamo sopra la seconda maglia alta e facciamo una maglia alta andiamo sopra l'ultima maglia alta andiamo a fare tre maglie alte una due tre catenella di separazione si ricomincia da capo quindi facciamo tutto questo per il secondo giro base quindi tre maglie alte nella prima maglia alta una maglia alta sopra la seconda maglia alta e tre maglie alte sopra l'ultima maglia alta una una due e tre catenella di separazione di nuovo tre maglie alte sopra la prima maglia alta una due tre maglia alta sopra la maglia alta tre maglie alte sopra l'ultima maglia alta quindi una due e tre e terminiamo il giro andando a fare una catenella entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima terzo giro base andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientriamo dentro la prima maglia alta andiamo a fare altre quattro maglie alte quindi una due tre e quattro per un totale quindi di cinque maglie alte entriamo dove abbiamo la quarta delle nostre tre ma delle nostre sette maglie alte perché qui avevamo sette maglie alte e andiamo a fare una maglia bassa prendiamo il filo andiamo direttamente dove abbiamo l'ultima maglia alta andiamo a fare cinque maglie alte quindi una due tre e cinque catenella di separazione si ricomincia da capo si va dove abbiamo la prima delle nostre maglie alte andiamo a fare cinque maglie alte una due tre e cinque e cinque una maglia bassa dove abbiamo la quarta delle nostre sette maglie alte andiamo nell'ultima maglia alta e di noi cinque maglie alte 1 2 3 4 e 5 catenella di separazione si ricomincia da capo 5 maglie alte sopra la prima maglia alta quindi una due una due tre solata mi devo tirare un po il filo eccomi 3 4 e 5 maglia alta sopra la quarta delle nostre sette maglie alte 5 maglie alte sopra l'ultima maglia alta continuiamo a fare questo quindi per tutto il nostro terzo giro base terminato il terzo giro base vi farò vedere come iniziare a fare il primo giro vero e proprio che sono i giri che poi andremo sempre a ripetere 4 e 5 catenella e ricomincio da capo quindi sto terminando di fare il mio terzo giro base ho fatto la catenella e in entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima e vedete qua già si vedono i nostri cuori però adesso man mano che andremo a lavorare a lavorare si vedrà meglio quindi possiamo continuare e andiamo a fare il nostro primo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientro e vado a fare un altre due maglie alte per un totale quindi di 3 maglie alte 3 catenelle di separazione una due tre vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta 3 catenelle di separazione una due tre vado direttamente dove ho l'ultima delle mie cinque maglie alte e vado a fare 3 maglie alte una due e 3 catenelle di separazione e si ricomincia da capo andiamo dove abbiamo la prima maglia alta e facciamo 3 maglie alte una 2 3 catenelle di separazione andiamo dove abbiamo la maglia alta andiamo a fare una maglia bassa e andiamo a fare la maglia alta 3 catenelle di separazione andiamo dove abbiamo l'ultima delle nostre cinque maglie alte andiamo a fare 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione e e di nuovo 3 maglie alte sopra la prima delle nostre maglie alte e di nuovo 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 3 catenelle 1 2 3 maglie alta sopra la maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 3 maglie alte e si ricomincia 3 maglie alte sopra la prima maglia alta 1 2 3 3 catenelle maglia alta sopra la maglia bassa 3 catenelle 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta di una una due e tre catenella di separazione possiamo terminare il giro andando a fare una maglia bassissima quindi possiamo fare il nostro secondo giro e andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e adesso vedete che stiamo facendo il secondo giro della maglia del giro base rientro dentro altre due maglie alte una 2 maglia alta sopra la maglia alta quindi la seconda delle nostre 3 maglie alte 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta quindi una due tre una catenella di separazione vado doveva la maglia alta realizza una maglia alta una catenella di separazione ricomincio 3 maglie alte sopra la prima maglia alta quindi una due tre maglia alta maglia alta sopra la seconda maglia alta 3 maglia alta 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta quindi una due e tre catenella di separazione si ricomincia da capo 3 maglie alte sopra la prima maglia alta una due e maglia alta 1 2 3 maglia alta 3 maglia alta e sopra l'ultima maglia alta 1 2 3 catenella di separazione vado dove ho la maglia alta realizza una maglia alta catenella di separazione e vado a fare di questo per tutto il mio secondo giro vi farò vedere vedere come vi ho avuto la prima maglia alta quindi una due e tre una maglia alta sopra la maglia alta la seconda 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta una due e tre catenella di separazione si comincia da capo e vado a fare questo per tutto il mio secondo giro vi farò vedere come terminarlo come iniziare poi a fare il terzo sta terminando quindi il mio secondo giro fatto sempre la catenella di separazione entrò nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima terzo giro andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientriamo e andiamo a fare altri quattro maglie alte una due tre e quattro una maglia bassa sopra la quarta maglia alta cinque maglie alte sopra l'ultima maglia alta di una 2 2 3 4 5 catenella di separazione salto la maglia alta e vado direttamente sopra la prima delle sette maglie alte e vado a fare i miei cinque maglie alte quindi una due tre quattro cinque maglia alta sopra la quarta maglia alta maglia bassa scusatemi sopra la quarta maglia alta vado dove l'ultima maglia di modo a fare cinque maglia alta quindi una due tre quattro cinque catenella di separazione si ricomincia da capo cinque maglia alte sopra la prima maglia alta una due tre quattro cinque maglia bassa sopra la quarta delle nostre sette maglie alte cinque maglie alte sopra l'ultima maglia alta una due tre quattro cinque catenella di separazione si ricomincia da capo cinque maglia alte sopra la prima maglia maglia alta una due tre quattro cinque maglia bassa nella quarta maglia alta e di nuovo cinque maglia maglia alte sopra l'ultima maglia alta quindi una due tre quattro e cinque catenella di separazione si ricomincia da capo quindi devo andare a fare questo per tutto il mio terzo giro vedete nel frattempo già si vede da un solo cuore siamo passati a due cuori terminato il terzo giro vi farò vedere come rifare il primo giro e vedrete appunto che di cuori ne usciranno tre sto per terminare quindi il mio terzo ultimo giro fatto la catenella iniziale entrò nella terza catenella e vado a fare una mia maglia bassissima ora come vi ho detto ricominciamo dal primo giro vedete una differenza che però questo primo giro poi si ritroverete sempre andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono prima maglia alta rientriamo tre ma altri due maglie alte per un totale di 3 maglie alte 3 catenelle di separazione dove ho la maglia bassa vado a fare la maglia bassa 3 catenelle di separazione dove ho vedete le due maglie dei due gruppi di maglie alte che mi separavano i cuori vado a fare 3 maglie alte quindi una due e 3 3 catenelle vado dove ho la mia ultima maglia alta realizzo 3 maglie alte una due e 3 catenella di separazione si ricomincia da capo quindi 3 maglie alte sopra la prima maglia alta 3 catenelle di separazione maglia alta sopra la maglia bassa 3 catenelle di separazione 3 maglie alte sopra tra le 3 tra i gruppi di 5 maglie alte 3 maglie alte 3 maglie alte cioè 3 catenelle mai alta sopra la maglia bassa 3 catenelle 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta catenella di separazione e si ricomincia da capo quindi come potete vedere adesso da due stiamo passando ad avere per ogni lato 3 23 cuori 1 2 e 3 e nel terminati 3 g vedrete che da 3 passeremo a 4 ricordatevi sempre che quando andate a fare il primo giro in ogni lato dovete alternare iniziate con il gruppo di 3 maglie alte la maglia alta poi di nuovo 3 maglie alte maglia alta 3 maglie alte maglia alta quindi man mano che crescerà la mattonella si andranno sempre più ad avere a cuore quindi da tre cuori passeremo a 4 poi a 5 e quindi avremo sempre però l'alternanza di 3 maglie alte maglia alta ricordatevi che dove abbiamo questi qua questi sono i nostri angoli quindi qui non dobbiamo andare a fare niente se non la catenella ma nei lati va appunto fatto questo dopo naturalmente quando vedete la mattonella terminata si noterà di più questa fatto dei cuori e io vi dirò quanti cuori sono andata a realizzare per ogni lato e una volta fatto il cuore una mattonella bisogna fare due mattonelle identiche una per davanti e una per il dietro ricordatevi sempre che per poter fare la mattonella la grandezza deve essere di qualche centimetro più largo delle vostre spalle quindi per fare un esempio se siete di spalle larghezza 40 cm dovete arrivare ad almeno ad avere un 45 46 cm in modo tale che appunto non vi stringa troppo poi in vita o in seno perché se fate uguale alla vostra larghezza spalle se avete un sino grande o avete dei fianchi grandi la mattonella vi stringerà quindi cercate sempre di fare almeno cinque centimetri in più in modo tale che appunto non vi stringa sul seno o sui fianchi o se naturalmente decidete di allungare poi la vostra mattonella ho terminato le mie mattonelle ne ho fatte due come potete vedere la larghezza è totale di circa 46 cm ora dal centro quindi all'esterno sono 23 cm io ho fatto due mattonelle e per avere questa larghezza mi sono fermata ad avere sei cuori una due tre quattro cinque sei mi raccomando per le taglie più grandi taglia m fate almeno sette cuori taglia l almeno otto cuori taglia xl 9 cuori a questo punto fatto le due mattonelle sono andata a cucire insieme e ho cuscito qui sulle spalle per circa 12 cm sia a destra che a sinistra mentre qua in basso ho cuscito per circa 27 cm lasciando uno scalfo bello largo quindi mi raccomando sempre con lo scalfo per le taglie più grandi andate a lasciare almeno un 18 19 cm traglia m e 20 22 cm di taglia xl dimenticavo quando andate a cucire e terminate comunque con lo scalfo cercate di terminare la cucitura o fermandovi dove c'è la maglia bassa o la catenella di separazione nel caso della maglia bassa iniziate i giri come l'inizio io nel caso invece vi fermate dove avete la maglia bassa dovete iniziare a fare i giri dal terzo e inizierete facendo prendendo tutto facendo la maglia alta quindi ripeto per le taglie più grandi o è anche per la mia o vi fermate dove abbiamo la maglia bassa o vi fermate a fare la cucitura dove avete le due le catenelle avanti e dietro in modo tale che possiamo fare la stessa lavorazione della maglia anche per la manica altrimenti non vi risulta facile poter non riuscite ad alternare i cuori detto ciò quindi possiamo andare a lavorare nostre manica io continuerò a lavorare con l'uncinetto del 4 e mezzo quindi vado appunto dove ho la mia cucitura quindi dove ho la maglia bassa e vi ricordo che noi dove abbiamo la maglia bassa facevamo poi la maglia alta quindi vado a fare le mie 3 catenelle 3 catenelle di separazione e poi seguo la lavorazione come abbiamo sempre fatta quindi vado tra le due gruppi di maglie alte e vado a fare le mie 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle vado dove ho la maglia bassa e vado a fare la maglia alta e continuo così per tutto il giro quindi 3 catenelle vado dove ho le ho finito i due cuori quindi vado a fare la maglia alta e vado a fare le mie 3 maglie alte 3 catenelle vado dove ho la maglia bassa e vado a fare la maglia alta continuo così per tutto il giro vedete qui mi trovo dove ho finito i due cuori quindi vado a fare 3 catenelle la cucitura della spalla e corrisponde quindi alla mia maglia bassa quindi vado a fare scusate alla 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 catenella di separazione tra i due cuori e quindi vado a fare le mie 3 maglie alte e ricomincia a lavorare come ho detto come sempre lavorato fino ad arrivare alla fine del giro vi faccio vedere come terminare il giro e come iniziare poi quello successivo quindi ho fatto le mie 3 catenelle vado doveva la terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassa secondo giro vado a fare 3 catenelle che sono sa prima maglia alta catenella di separazione vado a lavorare normalmente 3 magliette sopra la prima maglia alta quindi una due tre maglia alta sopra la maglia alta 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta una due tre catenella di separazione si ricomincia da capo e vado a fare maglia alta sopra la maglia alta catenella di separazione 3 maglie alte sopra la prima maglia alta e si continua a lavorare come l'ho sempre lavorato terminerò il secondo giro vi farò vedere il terzo giro dal quarto giro invece dovranno fare quelle che invece della maglia bassa si trovano hanno iniziato la lavorazione con la maglia con le lecate dove avevano le catenelle quindi io continuo a lavorare facciamo vedere alla fine del terzo del secondo giro e cominciare a fare il terzo sto terminando anche il secondo giro ho fatto la catenella entrò nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima terzo giro con delle maglie bassissime andiamo dove abbiamo la prima delle nostre maglie alte e a questo punto andiamo a fare 3 catenelle che sono sa prima maglia alta rientriamo altri cinque maglie alte quindi una due scuola altre quattro maglie alte per un totale di 5 maglie alte 3 e 4 mai abbassa sopra la quarta maglia alta del giro precedente e andiamo sopra l'ultima delle nostre maglie alte e facciamo i nostri cinque maglie alte quindi una due tre quattro e cinque catenella di separazione si ricomincia da capo andando a fare di nuovo cinque maglie alte sopra la prima maglia alta quindi il giro continua normalmente come abbiamo sempre fatto vi faccio vedere come terminare il terzo giro e come iniziare poi a fare il quarto giro sto per terminare anche il terzo giro ho fatto le ultime maglie alte vado a fare invece della catenella di separazione entrò nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa a questo punto entro dentro l'archetto che si è formato e vado a fare una maglia bassa e due catenelle che sono mia prima maglia alta rientro e vado a fare un'altra maglia alta quello che faremo adesso lo faremo per tutto il quarto giro 3 catenelle vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa 3 catenelle e di nuovo vado dove ho l'archetto di una catenella vado a fare le mie tre maglie alte e continuo così quindi per tutto il giro 3 catenelle maglia alta dove abbiamo la maglia bassa 3 catenelle maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella continuo così per tutto il quarto giro vi farò vedere appunto come terminare come iniziare il quinto giro sto terminando il quarto giro fatto le 3 catenelle rientro nel primo archetto del giro e vado a fare una maglia alta chiudo il quarto giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella quinto giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta vado nella maglia nell'ultima maglia alta e vado a fare 3 maglie alte una due e tre quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro catenella di separazione vado dove la maglia alta realizza una maglia alta catenella di separazione vado la prima delle 3 maglie alte vado a fare 3 maglie alte una due tre maglie alta sopra la seconda maglia alta 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta una due e tre quindi stiamo ripacendo i nostri cuori però come vedete stiamo alternando quindi catenella si ricomincia maglia alta sopra maglia alta catenella andiamo a fare di nuovo le 3 maglie alte maglie alte 3 maglie alte farò così per tutto il quinto giro vi farò vedere come terminare cominciare poi il sesto e ultimo giro sto terminando anche il quinto giro fatto la maglia alta e la catenella di separazione vado sopra l'ultima delle mie maglie alte nel giro precedente vado a fare tre maglie alte una due e tre termina il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella e a questo punto facciamo il nostro sesto e ultimo giro ci alziamo una con una catenella o entriamo dentro e facciamo direttamente una maglia bassa come vi trovate e a questo punto andiamo a fare le nostre cinque maglie alte sopra l'ultima maglia alta quindi una due tre quattro e cinque catenella di separazione e andiamo direttamente sopra la prima delle maglie alte facciamo 5 maglie alte una due tre quattro cinque maglia bassa sopra la quarta delle nostre sette maglie alte e di nuovo cinque maglie alte sopra l'ultima maglia alta continuiamo in questa maniera quindi per tutto il nostro sesto e ultimo giro vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi dal primo quindi catenella e si ricomincia con le cinque maglie alte e vedete abbiamo i cuori alternati allora ho terminato la manica e io ho fatto un totale di 13 cuori mi raccomando contando 1 2 3 e 4 quindi ho un totale di 13 cuori e come lunghezza per la manica per me va benissimo adesso vado a fare anche l'altra manica ho terminato entrambe le maniche quindi la mia maglia è terminata non voglio andare ad allungare sotto come vi ho detto mi piace che vada corta però voi naturalmente potete andare a fare l'allungamento sotto in quel caso dovete andare a lavorare in tondo come abbiamo fatto con la manica ecco la manica partite dove avete la cucitura laterale e partite con le 3 maglie alte quindi 3 maglie alte catenella maglietta sopra la maglia bassa in modo tale che anche quando arrivate qui maglia alta 3 catenelle qui dovete fare le 3 maglie alte poi di nuovo maglia alta quindi mi raccomando se dovete allungare la maglia dovete lavorare esattamente come abbiamo fatto i giri per la manica quindi iniziate con in realtà io ho detto 3 maglie alte ma dovesse fare le 2 maglie alte terminare con la terza maglietta ma era per farvi capire comunque che dovete fare il gruppo della punta del nostro cuore quindi questo se dovete allungare la manica io ho deciso di non farlo quindi la maglia anche questa maglia è terminata grazie 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 grazie